Da dove guarderai questo paesaggio mediterraneo? Da questo cielo abbagliante che si confonde con l'azzurro del mare? Dalla terrazza dell'infinito che toglie il respiro? Dalla vegetazione lussureggiante del giardino dell'anima che stordisce i sensi? Sarà ciò che ha disegnato la natura a emozionarti? I bastioni di rocce calcarei? Le incantevoli vallate strette e profonde? I litorali rocciosi? Lo spettacolo di una grotta marina? O saranno le opere del mondo? I borghi marinari? Arrampicati sui versanti collinari con i loro paesaggi verticali di case e stradine sospese sul mare? I vigneti e i frutteti coltivati addomesticando i pendii impossibili di queste montagne? O ancora? Sarà quest'armonia profonda tra il contesto naturale e l'intervento umano? A commuoverti Perché ogni elemento di questo paesaggio racchiude un complesso eccezionale di valori naturali e culturali Dalle tracce superbe dell'antica repubblica marinara Ai capolavori della civiltà arabo-normanna Fino al sogno neoclassico delle ville romantiche affacciate sul tirreno Un insieme di valori unici Che il mondo ti chiede di salvaguardare e custodire Costiera Amalfitana Siti italiani del patrimonio mondiale innesco Patrimonio dell'Italia Eredità per il mondo Eredità per il mondo